Costanzo si confessa, che rimpianto non aver conosciuto prima Maria Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno per festeggiare le nozze d'argento Per questo il noto conduttore televisivo ha voluto dedicare delle belle parole a sua moglie per sancire un amore che dura da 24 anni, Maria è sicuramente l'amore per me Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, stia per festeggiare un traguardo così importante Se l'avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d'oro Il 79enne poi prosegue, la malinconia mi ha salvato dall'eventualità di essere assalito dalla depressione Anzi, è stata l'antidoto, è un modo di percepire, leggere e affrontare la vita È una modalità di relazione con la realtà che ha in sé anche il germe della creatività Insomma un amore duraturo che però ha attraversato momenti di alti e bassi, soddisfazioni e rinunce come quella da parte di Costanzo di diventare direttore generale Rai Sarebbe stata una responsabilità troppo onerosa che mi avrebbe tolto molto tempo Tempo da dedicare alla famiglia e a Maria Grazie a tutti